Brillanti i risultati conseguiti dai carabinieri del comando provinciale di Isernia negli ultimi giorni. Mentre continuano le operazioni di controllo del territorio con strategie di contrasto a qualsiasi forma di criminalità e illegalità, i militari pentri tracciano una sorta di bilancio delle attività svolte negli ultimi giorni appunto. Dall'arresto della banda di malviventi composta da quattro persone specializzata nei furti in abitazione e al recupero della refurtiva di ingente valore con il conseguente sequestro di arnesi atti allo scasso fino ad arrivare all'arresto di altre due persone, una per aver forzato un posto di blocco alla guida di un'auto completamente ubriaca, l'altra in quanto ricercata per una rapina commessa a Roma ai danni di un turista. Ma non è tutto. In questi giorni infatti sono scattate denunce nei confronti di 12 soggetti per reati che vanno dallo spaccio di droga al commercio di materiale esplodente, dal porto abusivo di armi alle violazioni in materia di misure di prevenzione, dalle lesioni personali al danneggiamento. Nelle ultime ore infine tra i Serni e i comuni limitrofi i carabinieri hanno eseguito controlli su 70 veicoli in transito, identificato 90 persone e effettuato 8 perquisizioni alla ricerca di armi stupefacenti e refurtiva.